Giorgio? Ma che? Ma sei tu davvero? Oh! No io ho sparo! Attento! Da dove stanno sparando? Dalla scuola! Dalla scuola! Dalla scuola! Dalla scuola gli alberi! Sì, che stanno seguendo! Mettetevi dietro uno degli alberi! Ma io ho visto... Ma io... C'è Giorgio... No, ma non è possibile, l'ho visto! Sono sicuro di averlo visto, l'ho visto! Ma che hai visto? Scusa, che parli! L'ho visto davvero, state attenti però, non fatemi colpire, ok? Cercatevi... Tengo dietro gli alberi, tranquillo! Era qua, sono sicuro! Ma sai, com'è possibile che è già sparito? Sei sicuro che l'hai detto? Sì, sono sicuro, era qui, sono certo! Lion, forse hai visto male! L'ho visto, l'ho visto bene, non posso... Lion, siamo qui da ore, non ce ne puro! Lion, ti prego, leviamoci di torno, se ci stanno seguendo, quelli si ammazzano! Porca miseria, se me lo ricordo! Ma ci sono venute tantissime volte qui, mamma mia! Qua, a Stray, io mi ricordo che tu ti eri infettato qua dentro, eh! Ma che è vero! Ero qui che strisciavo e stavo morendo! E' rimasto, ti avevamo rinchiuso qua, ti avevano rinchiuso! Qui è dove avevano intrappolato anche Giorgio, se non ricordo male! Non posso guardare! Aspetta un attimo! Cosa c'è scritto lì? Questo è un messaggio di Giorgio, secondo me... Oddio! Almeno può essere, eh! Non è firmato, rimane il dubbio, però potrebbe essere! Cosa dice? Dovrei stare qua per un po', mi dispiace chiuderti come un cane in gabbia, ma con me ha funzionato! Devi migliorare a tutti i costi! Hai ragione! Lui è stato chiuso qui, ti ricordi? Potrebbe essere che abbiano chiuso dentro Giorgio, la fidanzata di Giorgio, e magari l'ha chiusa dentro lui, magari, no? Per tenerla qui dentro al sicuro! Sei morti? È in realtà tira a mangiare lui a lei, mi pare! Sì!